Buongiorno a tutti, sono Ludovica Fusco e sono la fondatrice di Made for a Day, la start-up delle facility domestiche che permette a chiunque di vivere a casa propria come fosse un albergo. Attraverso la nostra piattaforma si possono prenotare varie tipologie di servizi e il nostro personale, assunto e preparato, arriverà a casa con divise e kit per espletare i vari servizi scelti da voi, senza obbligo di continuità. Offriamo due tipologie di servizi, home e B&B. Home rivolto ai privati e alla pulizia degli ambienti domestici, B&B per aiutare agenzie e privati nella gestione degli affitti a breve termine. Infatti, attraverso la nostra logistica puntuale e organizzata, siamo in grado non solo di pulire le vostre abitazioni, ma di fornire il servizio di biancheria e accoglienza degli ospiti. Il mercato home è un mercato che tutti gli anni produce 6 miliardi di euro l'anno. Il mercato B&B è un mercato in forte crescita, considerando che negli ultimi tre anni è aumentato del 40% e oggi produce 760 milioni di euro l'anno. La nostra Go to Market Strategy, quando abbiamo aperto nel 2016, è stata quella di acquisire contratti con agenzie che gestiscono B&B presenti in tutto il territorio italiano e iniziare a fornire i servizi su Torino. Il 2017 lo chiudiamo con la fornitura di 1970 case su mercato B&B e home. A dicembre abbiamo iniziato a fornire i primi servizi su Milano. Quello che ci auspichiamo nel 2018 è acquisire sempre maggiori clienti su Torino, anche privati, acquisire sempre maggiori case su Milano, nel mercato B&B e mercato home, e iniziare a fornire i primi servizi su Firenze e Roma. Perché Made for a Day è un progetto interessante? Perché noi assumiamo e formiamo il nostro personale e offriamo servizi di qualità senza obbligo di continuità. Attraverso la logistica siamo in grado di essere flessibili ed efficienti nella fornitura dei servizi B&B. Nella speranza che il nostro progetto sia di vostro interesse,